cari amici oggi sono particolarmente felice perché c'è con noi miglio in primis perché l'ospite gratis e poi perché è molto bravo nei miei commenti potete trovare tutti i link che riconducono tutti i canali su tutti i social di amy scouting che ringrazio per essere oggi qui con me troppo gentile romeo troppo buono troppo buono e largisci complimenti in maniera troppo troppo buona sono onorato anche assieme a merida podcast su twitch non capisco niente di twitch però con l'amico lello colpogobbo e con emi ci divertiamo in questo bar virtuale però cianci perché emi qua oltre perché è un bravissimo ragazzo un professionista serio perché conosce molto bene arthur comunque vivendo in spagna è chiaro che la percezione anche a livello tecnico tattico anche il tuo mestiere no emi capito come sia andato arthur in questi primi due anni di barcellona ti chiede non che anche gli ultimi ti chiedo però emi se ti ha stupito il fatto che il barcellona se ne sia privato scambiandolo con pianici ma io leggermente sì sono rimasto un po sorpreso perché il giocatore ha un valore tecnico indiscutibile in prospettiva sarebbe potuto essere perfetto per quella che è anche la filosofia del barcellona quindi un po sì ovviamente prendono pianici che non è l'ultimo l'ultimo arrivato e ripeto te l'ho già detto a volte in privato qui in spagna è molto molto apprezzato pianici in telecronaca senti sempre complimenti insomma in generale secondo me qualcosina perde sì abbastanza sorpreso però ma la domanda che tutti si pongono che sicuramente poi leggeremo anche nei miei commenti è il ruolo di arthur c'è chi dice che possa diventare no un play davanti alla difesa la juve e c'è chi dice che possa fare invece quello che fa ora il barcellona la mezzala io e te ne abbiamo parlato è chiaro che non abbiamo un metro di paragone perché a barcellona finché c'è busquez lì gioca il professore però alla juve dove lo vedi è già detto tu hai fatto una lettura perfetta non abbiamo un metro di paragone per quanto riguarda il ruolo di mediano sulla carta lo può fare sì lo può fare tutte le carte in regola per svolgere quel ruolo lì però io attualmente lo vedo come mezzala a destra a sinistra è indifferente è abile tecnicamente palla al piede sa il fatto suo verticalizza da una certa velocità alla manovra durante la fase di non possesso anche è molto presente quindi una mezzala non dico box to box perché negli ultimi metri non è il top magari a livello europeo ma la sua fetta di campo secondo me la occupa soprattutto nel ruolo di di mezzala come mediano e ripeto finché c'è buschez lo hai detto tu e non l'abbiamo potuto ammirare in quel ruolo lì allora i pregi li ha enunciati in maniera splendida dai dimmi anche secondo te qualche difetto di altro secondo me negli ultimi metri nel caso in cui la juve fosse la ricerca di un centrocampista che possa risolvere l'azione negli ultimi metri secondo me arthur non è il nome migliore in circolazione bravo nei metri precedenti all'area di rigore ultimo passaggio sì verticalizzazioni quello che vogliamo ma io cito sempre marchisio per fare il paragone anche per rimanere in ambito juve non è il marchisio che i tifosi juventini hanno conosciuto e apprezzato non è il giocatore che si inserisce per creare superiorità numeriche in avanti quindi da questo punto di vista sì secondo me il suo punto debole è questo anche in ottica appunto juve non ti chiedo che abbia fatto l'affare perché sono del parere che poi il campo e metterà il verdetto sovrano però ti chiedo se pensi che la juve quantomeno a livello anagrafico abbia fatto una mossa giusta anche considerando poi le plus valenze no sì sì il discorso plus valenze lo lascio a te che sei molto più esperto di me in questo ambito però è un affare è un affare secondo me sì dal punto di vista anagrafico e ragazzi il ragazzo è molto giovane ha già dimostrato di saperci fare ha esperienza in campo internazionale e più di più di questo non so cosa cosa si può trovare insomma in giro quindi assolutamente sì grande affare secondo me da parte della juve poi ovviamente parlerà il campo ragazzi io ve l'avevo detto che mi scouting è bravissimo quindi è impossibile non seguire le e mi ti ringrazio enormemente e ci sentiamo presto per commentare magari l'altro acquisto a romeo ci mancherebbe altro ringrazio te la tua community e quando vuoi a disposizione un piacere grazie a tutti grazie a tutti